Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi addirittura con due piante spontanee, anzi in teoria dovrebbero essere tre, ma ve ne parlo subito adesso. Oggi parliamo di una dea, oggi parliamo dell'artemisia comune. L'ho raccolta soltanto un'oretta fa, il tempo di arrivare e ovviamente già lei ha lasciato un pochettino le sue fronde, si è un po' abbattuta. Ma vorrei farvi vedere, e magari in maniera abbastanza ravvicinata, se mi sarà possibile, ecco, le sue foglie, voglio farvi vedere il suo colore, il profumo lo sento forse notamente soltanto io, ma ve lo voglio far notare proprio perché vi voglio parlare di qualcosa di molto particolare, che magari finora non abbiamo ancora toccato come argomento, che sono le cugine velenose, le cugine strane o magari le cugine lontane che arrivano dall'America, scherzo, ma che comunque non hanno delle grandi proprietà. Quando sono velenose invece bisogna fare molta attenzione e questo è uno di questi casi. Parliamo dell'artemisia comune. Allora, il suo nome innanzitutto deriva dalla dea greca Artemide, ecco perché dicevamo, parlo di una dea protettrice dei cacciatori, protettrice delle vergini e delle donne ammalate, quelle donne che si rivolgevano alla dea proprio per essere aiutate nei casi di disturbi legati a gravidanza, disturbi mestruali, disturbi di menopausa. Nella fitoterapia moderna, in effetti, l'artemisia è consigliata proprio per mitigare i dolori del ciclo, per regolarizzare le mestruazioni. Ma facciamo un attimino un po' di chiarezza innanzitutto. Questa è l'artemisia comune di cui vi vorrei parlare appunto oggi in questo video. Poi c'è un'altra artemisia che è chiamata Artemisia absinthium. Mi dice nulla? Sì, sto parlando dell'assenzio appunto. Insomma, quella che ha ucciso Verlaine, che aiutò a scrivere le meraviglie bodleriane, quella che alla fine dell'Ottocento causò veramente un flagello sociale, un po' come quello che arrivò il secolo successivo con l'abuso di stupefacenti. A piccole dosi stimola comunque l'appetito, l'assenzio. A piccole dosi diventa importante per molte situazioni legate a un sistema digerente, anch'essa come vedremo poi anche per la cugina che ho in mano. Il problema è che poi a dosi massicce invece diventa una droga che non perdona. E ovviamente la storia, soprattutto quella fatta di artisti, ne narra. Appunto tanti decessi ne narra. Ovviamente tante situazioni. Da cosa si differenziano questa, la artemisia comune, dall'assenzio appunto, dall'altra cugina? Ma fondamentalmente dal colore. Questa come vedete è verde, ha questo bel verde anche se è un po' abbattuto, ma è comunque sempre verde, verde chiaro e verde scuro, mentre l'assenzio tende ad avere le foglie più sul grigiasto, quasi argenteo. Quello che è un dato di fatto che sia la comune, questa, che l'assenzio, fanno entrambe dei fiorillini giallognoli, come se fossero praticamente delle capocchiette. Per cui fondamentalmente una volta che abbiamo riconosciuto che quella verde è l'assenzio comune, quella che dovremmo maggiormente utilizzare, e quell'altra è l'assenzio, che invece magari teniamola un pochettino da parte, direi che abbiamo già fatto una bella classificazione. Ma qui l'attenzione maggiore deriva da questa. Questa si chiama tanaceto, è una pianta che come vedete, adesso cercherò di farvi vedere innanzitutto, rafficinarvi il tanaceto, vedete che è verde anch'essa, sia sopra che sotto, e anche ovviamente l'artemisia comune è alle foglie verdi, sia sopra che sotto. Bene o male ha un occhio veloce, potrebbero assomigliare entrambe. Se io le metto insieme e una non riesce, non si fissa, non si ricorda molto bene, potrebbero assomigliare entrambe. Oltretutto anche il tanaceto fa ovviamente dei fiorillini giallognoli, come se fossero delle capocchiette. Questo però è un sosia quasi velenoso, o comunque il suo veleno ce l'ha. Ha ovviamente, come abbiamo detto, delle foglie molto simili, anche loro. Ha anch'esso dei fiorellini gialli, per cui facciamo attenzione a non confonderle, sia che vogliate andare a raccogliere l'artemisia comune, sia che desiderate andare a raccogliere l'assenzio vero e proprio. Fate attenzione appunto a non confondere le due piante, soprattutto quando c'è un discorso di consumo alimentare. Questo perché il consumo del tanaceto può provocare dei crampi, dei disturbi alla vista e anche dei danni epatici. La sua tossicità non è altissima, è abbastanza moderata, però è sempre ovviamente meglio fare attenzione, piuttosto che rischiare ovviamente di abusare di qualcosa, che poi alla lunga può un po' regalarci dei danni non piacevoli. Torniamo però alla nostra bella artemisia comune. Sembra che durante le marce dei centurioni, le marce dei romani, i centurioni stessi avevano l'abitudine di adornare i loro sandali con delle foglie di artemisia comune. Guarnivano i sandali per prevenire le lesioni ai piedi stessi e soprattutto per alleggerire la camminata e renderla meno stanca. Questa cosa è arrivata un po' ai giorni nostri, o perlomeno io ricordo, i miei nonni essi stessi contadini avevano l'abitudine proprio a mettere delle foglioline di artemisia all'interno delle scarpe durante la loro giornata nei campi, perché appunto dicevano alleggeriva la giornata, i piedi erano meno stanchi, perché no? Sicuramente. Mi volto perché mi sono dimenticata di prendere una cosa molto importante che vorrei farvi vedere e di cui dovremmo parlarne proprio in questo momento. Vi chiedo scusa per la schiena. Eccola qua. Parlando appunto di artemisia, non si può che citare questa. Nella medicina tradizionale cinese, che profumo incredibile, è usata da millenni per la pratica della moxa. Questi bastoncini che vi sto, vi avvicino, sono appunto fatti dalle foglie di artemisia che vengono fatte seccare e poi compresse all'interno. Viene scaldata la punta, viene accesa, viene resa incandescente, la si avvicina alla pelle senza mai toccare la pelle, perché una volta accesa lei raggiunge comunque una temperatura molto alta, si avvicina alla pelle, si avvicina ai punti dell'agopuntura per andare a far che cosa? Per andare a riscaldare la parte, per andare a tonificare, per andare così a lavorare in profondità e andare piano piano a togliere quelli che possono essere delle infiammazioni che perdurano nel tempo, dei dolori ristagnanti. L'artemisia fa anche questa e in medicina tradizionale cinese da qualcosa come 3.000, 4.000 anni si usa proprio per questa cosa. Ha un profumo, credetemi, incredibile quando è secca e anche quando è fresca. Il suo profumo è veramente piacevole. Una volta accesa, credetemi, è abbastanza impregnante. Ecco perché l'artemisia, così come il sigaro per la moxa, da parecchio tempo a questa parte, viene stata bypassata da dei sigari di moxa in carboncino che comunque comprende sempre l'artemisia stessa ma in questo caso l'odore è meno perdurante sull'abbigliamento e soprattutto all'interno di un ambiente chiuso. Bene, abbiamo parlato di questo, ora dobbiamo comunque vedere di fare un attimino di chiarezza anche sulle proprietà, sull'uso della nostra artemisia comune. Ha proprietà, abbiamo detto prima, di grande aiuto legate a un discorso di circolazione legata alla mestruazione per cui meno pausa e dolori mestruali. Ma le sue proprietà sono tendenzialmente depurative, sono disintossicanti del fegato e di tutto l'apparato digerente, facilita la digestione dei cibi, ha anche azione fermifuga. Dove si trova? Ovunque. È praticamente infestante questa pianta per cui la troviamo veramente dappertutto. Ovviamente, come già detto nelle puntate precedenti, non andate mai a raccogliere le erbe spontanee sui cili della strada battuta dalle auto. Cercate sempre di andare a raccogliere le piante innanzitutto sapendo che cosa state raccogliendo, in primis, e sapendo come poterle utilizzare. Ma non andate mai a raccogliere delle piante per il gusto di farlo, perché state facendo comunque un danno alla natura. Il raccogliere una pianta per poi tornare a casa e dire, bene, e adesso cosa ne faccio? Non è sinceramente un gesto civile, educato, rispettoso di madre terra. Per cui fatelo sempre rispettando ciò che la natura ci sta dando. Per cui andate a raccoglierlo in zone sicure. Come già sempre detto, utilizzate dei coltellini, delle forbici. In alcuni casi portatevi anche dei guanti se il rischio è quello di andare a raccogliere delle piante che possono essere urticanti. Vedi l'urtica, ad esempio, o magari mi hanno parlato anche della circoria, anche la circoria potrebbe causare delle piccole urticazioni alla pelle e dei sacchettini di carta dove poterle riporre e portarle a casa. Per cui, appurato che la troviamo praticamente ovunque, cominciamo a dare alcune indicazioni di utilizzo come ricette. Per l'acidità di stomaco basta ad esempio fare un infuso con 30 grammi di foglie fresche per un litro d'acqua e bere durante il giorno. L'infuso, ad esempio, concentrato di queste foglie stimola anche le attività cerebrali perché sono così intelligente alla mia età. Insomma, sto toccando la parte superiore proprio per farvela vedere bene sto guardando se ne riesco a trovare qualcuna di migliore. ecco qua, forse è questo. Le parti superiori tendono a fare dei ciuffetti piuttosto duri. Mangiare questi ciuffetti ricorda molto il sapore del carciofo per cui questa è una cosa piacevole da tagliare e da condire magari con un pochettino di insalata e mangiare così a crudo. A proposito di parti superiori una tisana fatta con le sommità queste che vi ho appena fatto vedere nel momento della sua infilorescenza quando cominciano le piccoli gemmette giallo-dorate ecco, raccolte in luglio e agosto calma il sistema nervoso tranquillizza. Bevuta una tazza blanda al giorno magari a giorni alterni fatta con le foglie regolarizza le mestruazioni calma i dolori da ciclo ma calma anche quelli che sono i dolori intestinali. Queste foglie si possono seccare da utilizzare? Certamente che si possono seccare ricordatevi sempre di staccarle dalla sua pianta è la cosa un pochettino più pratica metterle in un luogo buio e asciutto e lasciarle seccare in maniera naturale. Le foglie secche si utilizzano non per mangiare ma per profumare la biancheria e allontanare le tarme. In cucina comunque sia da sempre utilizzata come vi ho detto prima la parte superiore perché ha un gusto che ricorda molto il carciofo ma è utilizzata anche come condimento per le carni e per i pesci abbastanza grassi carni come ad esempio l'anatra come l'oca il pesce come un'anguilla accompagnare queste carni con questo intingolo queste foglioline fresche in insalata aiuta molto a digerire la carne che stiamo mangiando. Piccole avvertenze innanzitutto quando si raccolgono queste foglie beh l'ideale sarebbe raccogliere da marzo ad agosto così che prendete le foglie fresche e prendete anche i piccoli fiorellini appena nati. L'attenzione maggiore è dovuta a un discorso del suo consumo non usare ovviamente ingravidanza perché accelerando la comparsa delle mestruazioni di conseguenza diventerebbe abortiva fatene anche un impiego moderato perché? Perché ha conseguenze ipnotiche anche se state utilizzando l'artemisia comune e non l'assenzio ok? Per cui non è importante che questo non si chiama assenzio ma si chiama artemisia comune per cui non farà male no, la famiglia è sempre questa per cui sempre utilizzare con moderazione così da assumerne le proprietà che servono a noi senza causarci dei danni. E questo è tutto. Io vi auguro una buona caccia all'assenzio caccia all'artemisia comune facendo attenzione a non cacciare o essere cacciati dal tanaceto questa è la sosia o comunque la somigliante in cui potreste incappare ma è quella pericolosa per cui attenzione a questa e buona raccolta a tutti ci vediamo alla prossima erba spontanea grazie a tutti